Buonasera a tutti, mi chiamo Samuele Riccarelli e sono un docente della SEM, della Scuola di Economia e Management dell'Università di Siena. In questi 30 minuti nel quale staremo insieme vi parlerò del rischio che si ha in ambito finanziario, il rischio nei mercati finanziari. In particolare queste 30 minuti fanno parte del programma di orientamento universitario del 2020 che l'Università di Siena e la Scuola di Economia e Management, l'ex Facoltà di Scienze Economiche e Bancari, forniscono agli studenti a distanza, in modalità a distanza, in questo momento di difficoltà dovuto a questo coronavirus che ci costringe a stare nelle nostre abitazioni. Perché si parla di rischio in ambito finanziario ma in generale di rischio nella nostra vita quotidiana? Quante volte avete sentito dire ho rischiato molto senza se non si risica non si rosica? Il rischio è il sale della vita. Il rischio è nato sicuramente insieme all'uomo e alla sua evoluzione. In particolare il rischio viene sempre riconosciuto antropologicamente parlando come la possibilità che ad una determinata azione corrisponda a un risultato negativo. Si parla di rischio di perdita di denaro in ambito finanziario e economico ma ci può essere anche il rischio che un raccolto non produca i risultati seppure sia stata fatta una buona semina e si è anche ottenuto una buona aratura del campo. In generale, come riportato su fonte Wikipedia, si può definire il rischio come la potenzialità che un'azione o un'attività scelta, includendo anche la possibilità di non fare nulla, di agire, porti a una perdita o ad un evento indesiderabile. Questo è il rischio antropologico, che è un po' diverso da quello che è il rischio che si ha nei mercati finanziari, perché in questo aspetto del rischio viene sempre evidenziato e viene sempre accentuato sulla possibilità di una perdita, mai o raramente di un guadagno. Bisogna però tenere in considerazione, come riportiamo sotto nella definizione di rischio di tipo economico finanziario, che la perdita non è nient'altro che l'altra faccia della medaglia di un guadagno. Quindi, se si fanno delle azioni che possono portare a dei guadagni, a volte queste azioni, e quasi sempre così, possono portare a delle perdite. Per cui, in ambito economico finanziario, per rischio, possiamo anche indicare la distribuzione dei possibili scostamenti dei risultati attesi per effetto di eventi di incerta manifestazione, interni o esterni ad un sistema. In particolare, in ambito economico finanziario, si intende come rischio la variabilità dei risultati che vi possono essere come effetto dovuto ad una causa. Se si fa un investimento in ambito finanziario, oppure se si prende a prestito del denaro per sostenere una determinata attività economica, si possono avere delle perdite, ma si possono avere anche dei guadagni. Il rischio è il ventaglio delle possibili risultati che si hanno di fronte a questa opportunità che è stata intrapresa. Veniamo adesso più nel dettaglio a quello che è il rischio in ambito finanziario. In particolare, per introdurre il rischio in ambito finanziario e in particolare per verificare quelle che sono le misurazioni del rischio secondo la teoria classica della media varianza, che troveremo più avanti in questo intervento, va introdotto quello che è il concetto di rendimento in ambito finanziario. Naturalmente, questi minuti che noi passiamo insieme, vi presento un concetto di rendimento, così come un concetto di analisi del rischio, di livello elementare, di livello dei primi rudimenti per quanto riguarda questi concetti che noi applichiamo in campo economico-finanziario. Così come il rendimento che io vi presento è un rendimento di tipo esclusivamente semplice. Naturalmente, negli studi in ambito universitario vengono applicate anche analisi per il calcolo di rendimento di attività finanziarie ed economiche più complicate. Ma veniamo al concetto di rendimento in ambito semplice. Il più semplice metodo per introdurre il rendimento è parlare di titoli, cosiddetti titoli a cedola nulla. In Italia sono meglio conosciuti come i BOT o anche, in ambito anglosasso, negli ZCB, zero coupon bond, titoli che non presentano cedole o, se preferiamo, a cedola nulla. Sono titoli uniperiodali, ovvero c'è un investimento iniziale e c'è una raccolta finale. Potrebbe essere, ad esempio, io qui ho messo 0,1, ma potrebbe anche essere 0,3. Indipendente potrebbe essere dall'istante 0 oggi a tre anni, a tre mesi, dall'istante 0 oggi a un anno, oppure potrebbe essere considerato un decennio. In questi titoli a cedola nulla si hanno solamente due flussi monetari. Il primo flusso monetario, che può essere o di investimento e quindi un esborso per l'investitore, oppure un incasso, se è per un finanziatore. Alla fine, il valore del titolo, per esempio, che all'inizio poteva essere 100 euro, si può supporre che alla fine sia incrementato di due unità monetarie sia 102 euro. Naturalmente, vi è sempre una situazione che, se all'inizio si ha un esborso e quindi si acquista per 100 euro, si raccoglie le 102 euro. Viceversa, all'inizio, chi ha incassato le 100 euro in termini di finanziamento, alla fine dovrà sborsare 102 euro per ripagare il finanziamento avuto. In questa situazione la differenza tra 102 e 100 rappresenta quello che è l'interesse maturato dal nostro titolo. Nell'arco di un anno o nell'arco del periodo che noi vogliamo considerare, qualunque esso sia, un titolo di questo genere ha avuto un interesse pari a 2 euro. Ovvio, se alla fine valeva 105 da un valore iniziale di 100, l'interesse sarebbe stato pari a 5 euro. Che cos'è il rendimento o tasso di rendimento che di solito viene indicato con I? È un rapporto, ed è il rapporto tra la variazione che ha avuto il valore del titolo, il valore finale V1 meno il valore iniziale V0, diviso il valore iniziale del titolo. Nel nostro caso, la variazione che di solito è indicata con delta, questa lettera greca qui, delta, è il nostro rapporto che mi dà il rendimento è pari a 2 su 100, 0.02, che in termini percentuali è estremamente semplice, in questo caso mi dà il 2% di rendimento. Spesso può accadere che il valore iniziale non sia conosciuto a priori, oppure il valore finale non sia conosciuto a priori. Ad esempio, nei buoni ordinari del tesoro del Ministero dell'Economia italiano, che vengono emessi con cadenza ogni 15 giorni o ogni mese, il valore finale è sempre pari a 100 e il momento all'emissione in asta il valore iniziale è incognito. Per cui già un titolo di questo genere ha nel suo interno una componente di risiosità, perché non essendo noto al momento in cui si va all'asta il prezzo, il rendimento può essere più o meno alto a secondo del valore di acquisto che viene generato dall'asta su i bot. Altre forme di investimento presenti in Italia, il cosiddetto obbligazionario, come per esempio i BTP, hanno una struttura un po' più complessa, ma il rendimento ha una forma per il calcolo simile a questa. In quel caso bisogna considerare il maggior numero di periodi nel quale si evolve il BTP. Introdotto quindi il concetto di rendimento, andiamo a vedere degli indicatori di sintesi che si rendono necessari quando il valore finale può presentare, a seconda di quello che accadrà in futuro, risultati differenti. Chiudiamo quindi questa seconda slide e vi presento quella che è la terza slide. In questa terza slide ho indicato una prima possibilità di investimento, una prima opportunità di investimento che vi presenterò in questi 30 minuti. Alla fine ve ne presenterò quattro con sfaccettature diverse per farvi meglio comprendere quella che è la natura di questi indici sintetici riferiti al rendimento. Vediamo più nel dettaglio l'opportunità di investimento A. Possiamo anche ampliare qui la pagina. Ho supposto sempre che l'investimento A è un investimento che opera su un intervallo di tempo uniperiodale. Possiamo supporre l'anno, ma possiamo supporre anche un'età di misura temporale diversa. Ha come nel caso precedente un flusso monetario di valore pari a 100, che può essere meno 100 o più 100 a secondo di chi investe, di chi si finanzia tramite questa opportunità di investimento. Ma adesso all'istante 1, rimanendo sempre come qui vedete nella situazione in cui ci troviamo in questo momento relativo al coronavirus, può avere due diversi valori. Può avere un incremento passando da 100 a 120 se il virus è stato debellato dopo un anno, può avere invece una diminuzione del suo valore pari a 90 se il virus non è stato debellato. Possiamo supporre ad esempio che questo qui sia la situazione che potrebbe avere un titolo di una impresa che opera nell'ambito dei farmaci per contrastare, non quanto il vaccino, ma diciamo dei farmaci per contrastare il coronavirus. Capiamo subito che, essendo una situazione di incertezza all'istante 1 del valore finale che questa opportunità di investimento ha, questa situazione di incertezza si riflette sul rendimento dell'opportunità A che ho indicato qui con il rendimento I con A. Come si calcola il rendimento? Chiaramente sempre la variazione del valore fratto V con 0, ma a seconda di quella che sarà la situazione fra un anno se il coronavirus è stato debellato oppure non è stato debellato, il rendimento del titolo può avere un valore di più il 20% nella prima situazione, ma può avere anche una perdita del 10% nella seconda situazione. Vedete che per l'opportunità di investimento A in questa situazione il rendimento diventa cosiddetto aleatorio, dipenderà da quello che sarà lo sviluppo futuro di un determinato fatto come il fatto che possa essere battuto o meno questo virus. Per cui, essendo due possibilità per il rendimento, in ambito finanziario deve essere costruito un valore di sintesi che mi possa rendere più chiara nell'analisi che vedremo media varianza quella che è il rendimento dell'opportunità. Questo valore di sintesi usualmente viene indicato nel rendimento atteso che non è nient'altro che il valore medio tra le possibili determinazioni del rendimento che si avrà a scadenza. In questo caso, facendola molto semplice, la presento in modo molto semplice, il valore atteso che usualmente viene indicato con la E che sta per l'inglese expectation, il valore atteso di rendimento icon A supponendo che entrambe le possibilità coronavirus debellato coronavirus non debellato abbiano la stessa probabilità di verificarsi alla fine del periodo, il valore atteso è semplicemente dato da più il 20% meno il 10% fratto 2. L'opportunità di investimento A ha un rendimento atteso tra un anno pari al 5%, positivo, ma questo ricorda un valore di sintesi perché potrà avere più il 20% meno il 10%. In media, questa opportunità di investimento renderà il 5%. Vediamo cosa accade, una stessa situazione simile, ma con opportunità di investimento di tipo B. Questa che troviamo sulla slide 4. Scusate. In questa situazione abbiamo sempre un'azienda che opera nel campo della medicina. Qui però possiamo supporre che il rischio, lo vedremo attentamente, ma comunque la variabilità del risultato del nostro investimento sia di tipo superiore. Possiamo supporre ad esempio che si tratti di un investimento in un'azienda che produce un meglio adesso e alla ricerca di un vaccino per debellare il coronavirus. L'opportunità di investimento iniziale è sempre di 100 euro, ma se questa azienda riesce a produrre il vaccino dopo un'unità periodale, coronavirus debellato, il valore degli investimenti iniziali di 100 schizzerà in alto verso 150, ma allo stesso modo se il vaccino non fosse arrivato avremo un valore pari a 60 euro, una notevole perdita dei 100 euro iniziali. Come in precedenza nell'opportunità, anche in questo caso, nell'opportunità B abbiamo che la nostra azienda produce un rendimento aleatorio che può essere del 50% o del meno 40%. Come in precedenza, sintetizzando il nostro rendimento con il valore atteso, il rendimento è più il 5%, esattamente come il rendimento nell'opportunità di investimento A. il rendimento atteso, seppur una situazione diversa dal punto di vista della forbice di incremento o decremento del valore della nostra azienda indicata con B, è esattamente uguale a quello di A. Dal punto di vista del rendimento atteso, le opportunità di investimento A e B sono equivalenti, ma la forbice è molto più ampia, per cui notiamo da questa situazione dell'azienda A e dell'azienda B che il rendimento atteso, seppur un chiaro indicatore di quelle che possono essere le opportunità future dell'investimento in una determinata azienda, non è sufficiente per determinare appieno le strategie di investimento che potrebbe essere nell'una o nell'altra. ecco che entra in scena a me piace definirlo così entra in scena il concetto di rischio che vi ricordo come visto all'inizio di questo nostro appuntamento in ambito finanziario viene misurato tramite la variabilità sia positiva che negativa rispetto al valore atteso di una determinata grandezza, in questo caso rispetto al rendimento atteso. ma come è possibile in ambito finanziario quantificare il rischio? Esistono vari modi durante la storia della disciplina finanziaria in particolare della disciplina matematico statistica applicata in ambito finanziario si sono evoluti vari modi di quantificare il rischio. Il modo però classico che si rifà al pionieristico lavoro di Harry Markowitz degli anni 50 del secolo scorso è quello di quantificare il rischio di un valore di un investimento tramite il rendimento tramite la varianza del rendimento. Cos'è la varianza? La varianza è un operatore statistico dal punto di vista del calcolo è la media dei quadrati degli scarti dalla media ma a parte la definizione un po' tecnica la varianza indica la dispersione che i vari valori in questo caso del rendimento hanno con riferimento base quello che è il rendimento atteso dal punto di vista del calcolo e della forma può essere o meglio la varianza è espressa in questo modo qua poi ci sono anche delle altre varianti ma del tutto equivalenti in particolare però essendo la varianza un operatore quadratico di secondo grado per esprimere e quantificare il rischio usualmente si tende e vi spiegherò tra un attimo perché ad utilizzare la radice della varianza che è indicata con la lettera greca sigma e prende il nome di devianza nel nostro caso devianza del rendimento si tende a usare la devianza anziché la varianza per togliere il fatto che la varianza è un operatore di tipo quadratico e quindi per esprimere la misurazione del rischio tramite un operatore che abbia la stessa unità di misura della media ovvero del rendimento atteso vediamo quindi di applicare il nostro concetto di rischio che è entrato in scena nelle opportunità A e B viste precedentemente entriamo quindi nella slide 6 nella slide 6 andiamo a calcolare quantificare il rischio dell'opportunità di investimento A e dell'opportunità di investimento B abbiamo qui indicato con la varianza di rendimento dell'opportunità varianza di rendimento dell'opportunità a parte vari calcoli che qui voi trovate notiamo che la devianza dell'opportunità è pari al 15% la devianza dell'opportunità B è pari al 45% per cui le due opportunità sebbene hanno lo stesso rendimento atteso presentano una quantificazione del rischio ben diversa rischio misurato tramite la devianza l'opportunità come avevamo visto avendo una forchetta minore rispetto all'opportunità B ha anche un rischio di livello inferiore rispetto a quello che è l'opportunità B questo non implica naturalmente che non si possa investire nell'unità B l'unità B ha più rischio a possibilità di un guadagno maggiore ma contemporaneamente possibilità anche di una perdita maggiore rispetto all'opportunità A usualmente si usa anche dire in ambito finanziario che un investitore avverso al rischio opterà per molto probabilmente un investitore fortemente amante del rischio può essere che opti per l'opportunità B l'opportunità B vediamo ora una terza opportunità che va ad inserirsi tra A e B e poi nel piano media varianza che vi presento tra poco vi farò vedere quella che è la differenza di studio dell'analisi finanziaria che abbiamo in questa rappresentazione grafica per le tre opportunità la nostra terza opportunità C è un'opportunità che si presenta sempre nello stesso filone dell'opportunità A e B possiamo ad esempio in questo caso supporre una situazione per esempio di un operatore dell'ambito del turismo ad esempio se il coronavirus è debellato il suo valore di riferimento crescerà se l'ambito del coronavirus è almeno debellato il suo valore di riferimento avrà una diminuzione abbiamo sempre il nostro valore iniziale pari a 100 140 è il valore che avrà una situazione ottima per l'annientamento del coronavirus viceversa se tra un anno ancora il coronavirus dovrebbe essere tra noi avremo una perdita di valore pari a 20 unità monetare per ogni investimento effettuato nella nostra opportunità in questo caso possiamo calcolare il rendimento dell'opportunità che è un rendimento vedete in questo caso di tipo aleatore come in precedenza più 40% nella situazione al di sopra meno 20% nella situazione al di sotto cosa accade però dal punto di vista del rendimento atteso calcolando il rendimento atteso dell'opportunità c il rendimento atteso è superiore a quelli precedenti ve l'ho scritto qua giù in fondo il rendimento atteso è superiore sia quello di a che di b pari al 10% calcolando la varianza e poi la devianza del rendimento c troviamo invece un 30% che è la devianza la devianza di c si pone tra la devianza di a e la devianza di b questo se lo vogliamo rappresentare in questo grafico qui che vediamo nel piano media varianza dove in questo asse piano cartesiano troviamo sull'asse dell'ascisse quella orizzontale la devianza sull'asse verticale la media qui vedete a b e c la d la vedremo tra un poco abbiamo che a si pone in questo punto qui b in questo punto qui e c in questo punto qua l'opportunità c ha un rendimento maggiore di a e di b una varianza o meglio una devianza quantificazione del rischio che si pone a metà strada tra l'opportunità e l'opportunità b l'opportunità b in questo caso rispetto all'opportunità c per un operatore che opera le sue scelte esclusivamente sulla media e sulla varianza è un'opportunità questa b che è dominata dall'opportunità c perché l'opportunità c ha una minor quantificazione del rischio una maggior quantificazione del rendimento atteso colui che opera con le scelte scusate colui che opera esclusivamente tramite la media e la varianza non opterà mai per l'opportunità ma opterà per l'opportunità c o per l'opportunità a secondo di quanto esso sia propenso o meno al rischio vediamo questa era la slide 7 vista prima vediamo l'ultima slide che ho preparato ancora un'opportuna ancora un'opportunità di investimento la nostra d questa opportunità di investimento invece la nostra d ha una situazione esattamente opposta rispetto alla precedente ad esempio possiamo supporre un'azienda che produce forme di difesa rispetto al coronavirus come possono essere forme di difesa di tipo meccanico che sono necessarie ancora tra un anno o tra un periodo se il coronavirus non fosse debellato in questa situazione di fronte ad un investimento iniziale di 100 coronavirus debellato una perdita in questo caso di 60 coronavirus non debellato un incremento di 200 si possono fare gli stessi calcoli si ottiene che il valore atteso di questa opportunità di è superiore agli altri il 20% con una devianza superiore a tutte le altre l'80% in questa situazione qua ritornando al nostro grafico precedente la situazione D si pone qua la situazione D non è dominata da nessuna delle altre nel piano media varianza un operatore particolarmente propenso al rischio potrebbe scegliere l'opportunità X in questi pochi minuti che mi rimangono voglio mostrarvi come si potrebbe in questo grafico qui sotto e in questo qua sotto come si potrebbe operando opportune mix operando opportune miscele fra i titoli A B e i titoli C e D ottenere dei portafogli cosiddetti dei mix tra questi titoli in modo tale da variare la quantificazione del rischio e la quantificazione del rendimento atteso qui in questo secondo grafico in questa parte qua troviamo quelle che possono essere le varie opportunità in un mix tra il titolo A e il titolo C qui nelle varie opportunità tra il titolo B e il titolo C quello che è interessante notare è che in questa situazione titoli che adottano la stessa strategia ovvero crescono se il virus è debellato decrescono se il virus non è debellato vedete come si possa ottenere una variazione sia nel rendimento atteso che nella devianza e quindi nella quantificazione del rischio ma che comunque assuma un andamento abbastanza lineare ovvero si può passare da un minimo del rendimento ad un massimo del rendimento in una forma di tipo direttamente proporzionale tra la LC oppure tra il B e C più interessante invece questo qui rientra in quella che sono le tecniche di analisi e di gestione dei mercati finanziari lo notiamo in questo terzo grafico qua in questa situazione del terzo grafico andiamo a miscelare opportunità a con l'opportunità di scusate e l'opportunità B con l'opportunità di sia l'A in contrasto a B che il B in contrasto al D sono situazioni nel quale abbiamo due titoli che crescono e decrescono in modo opposto l'uno cresce se l'altro decresce e viceversa si parla in questo caso dal punto di vista statistico di correlazione negativa tra i due titoli vedete come i grafici in questa situazione evidenziano che opportunamente miscelando i due titoli con opportuni mix si possono ottenere situazioni dove si riesce a diminuire il valore che voi trovate tipo in questa situazione qua e in questa situazione qua si riesce a diminuire la quantificazione del rischio la rischiosità del portafoglio generato andando ad aumentare anche il rendimento atteso naturalmente questa situazione qua si può creare solo in particolari situazioni dove appunto esiste questo contrasto questa correlazione negativa tra l'evolversi dei due titoli per ottenere minor rischio con un incremento di rendimento atteso abbiamo bisogno di costruire portafogli con titoli dove uno cresce e l'altro decresce e viceversa vi posso anche far vedere in qualche minuto che manca come all'aumentare qui per esempio possiamo togliere meno 0,75 mettere meno 0,95 all'aumentare ancora del livello di correlazione negativa tra i due titoli fortemente vedete rispetto a prima come se riuscite ad aumentare ancora il rendimento atteso con una diminuzione in queste situazioni qua di quella che è la quantificazione del rischio cioè si è diminuito il rischio del nostro investimento opportunamente miscelando titoli che vanno in verso opposto quando uno cresce l'altro diminuisce e così via bene a questo punto è finito il tempo a mia disposizione vi ringrazio della vostra attenzione e se questi pochi minuti passati insieme sono riusciti a destare un qualche interesse qualche desiderio di apprendere di conoscere in ambito scientifico in più in particolare in ambito economico finanziario sappiate che questo qui per me è un grande onore vi saluto a tutti e arrivederci a più presto grazie a tutti